L'analisi e le analisi che abbiamo sentito finora sono assolutamente tutte perfette, dal punto di vista politologico non fanno una grinza, fa un po' rabbrividire quando sento il professore parlare di costi civili assai elevati, questi costi civili sono spaventosi, non elevati naturalmente, bisogna dirlo a chiare lettere e ha ragione la nostra Premier quando ricorda che il diritto di Israele a esistere non significa però che si possa violare il diritto internazionale e il dovere della tutela dei civili, quindi lo sforzo che dovrebbe vedere coinvolto, gli americani stanno facendo effettivamente tutto il possibile, naturalmente non possono venire meno al loro dovere primario di garantire l'esistenza di Israele, questo spiega il dispiegamento delle portaere, questo naturalmente spiega il continuo rifornimento di armi eccetera, ma che l'Europa e il resto dell'Occidente abbia il dovere di esercitare una pressione crescente su Israele per indurlo a esplorare altri territori che non siano quelli della devastazione dei suoi nemici, questo è fuori discussione, anche perché vorrei fare notare qualcosa, sì è verissimo che gli stati arabi cosiddetti moderati o comunque la parte sunnita del mondo musulmano è ansiosa di avviare rapporti con Israele e che nemmeno l'offensiva post 7 ottobre ha stracciato gli accordi di Abramo, però attenzione, questi regimi hanno a che fare, benché autoritari e dittatoriali in molti casi, hanno tuttavia a che fare con delle opinioni pubbliche che esistono, che premono e che spingono in una certa direzione, il fossato di odio e di sangue che si sta scavando in queste settimane, che si è scavato con il conflitto di Gaza e che si sta replicando qui adesso sul Libano e indica una prospettiva assolutamente fosca, la prospettiva di sopravvivenza di Israele non può essere slegata al suo acquistare un posto riconosciuto tra i paesi di quell'area, di quella regione, altrimenti sarà la guerra dei cent'anni che già in effetti va avanti da cent'anni e che minaccia di non finire mai, ma qui ha ragione Biden, la miccia per un conflitto globale è davvero innescata. Infatti questo è un po' l'ichere, adesso voglio scendere un ultimo...